Ehi ragazzi si trova su Turmoil, voglio spendere due parole per il video scorso Prima di questo video ho caricato un gioco oggi, un giochino Andate a guardare, vi uscirà la scheda, plink, in questo momento cliccate sulla scheda e andate a guardare Dove tanti hanno messo dislike e perchè nei commenti tanti bambini non hanno capito Ho fatto un video dove all'interno di 16 minuti, non so quanto duri video, non ho mai detto inizio una serie Ma ho semplicemente detto faccio questo gioco, punto, lo mostro, basta La gente ha capito che ho iniziato una serie, la gente addirittura pensa che ho messo quella serie al posto di Minecraft Ragazzi voi non state bene, andate a togliere il dislike e metti il like, ok? Quindi siamo tornati in Turmoil in un nuovo episodio e nuovo bioma Vi ricordo, 5000 like per il prossimo video ragazzi Siamo tornati al punto dove arrivamo nella stagione scorsa Ragazzi sto portando diversi giochi, ma non è detto che sono serie, sono anche video singoli, ok? Quando è una serie o una probabile serie, lo dico nel video Per esempio un gioco che sto attendendo da mesi, mesi e mesi Non vedo l'ora che esca, dovrebbe essere il 10 agosto È No Man's Sky, un gioco che molti di voi conosceranno Quello sì, che porterò una, due, tre, sette serie Per il momento ragazzi fa un caldo boia Sto sudando, c'ho il condizionatore spento perché sto registrando questo video E sto leggermente soffrendo in questo momento Compra una macchina per usare il gas È quella ragazzi, 34.000 No, il gas ci serve La valvola giusto? Giusto? Devo comprare la valvola ragazzi È il collegamento left or right Per cui 40, 60.000 Ne abbiamo 34.000 Ragazzi sto pensando seriamente di chiedere un prestito in banca Sto pensando seriamente di chiedere un prestito in banca Dovrei chiedere esattamente 30.000 dollari 30.000 dollari Quanto, andiamo a vedere quanto interesse Andiamo a vedere se ci sono qualcosa che ti dà meno interessi Meno interessi Se mi paghi l'anno prossimo posso chiudere un occhio in caso di fuoriuscite Non compro nulla E me le foto nel gas Asta per le azioni Asta Ramiano Perché uno mi ha detto Luca se non fai Asta Ramiano ogni volta Io mi disiscrivo Allora mi tocca farlo Il 2% Sotto i 5.000 lo compro io Sopra i 5.000 lo lascia loro Mi cadono cose Mi ca... Guardate cosa mi è caduto Questo qua È un prossimo video Vediamo chi capisce che cos'è Ve lo faccio vedere in 3 secondi E ditemi nei commenti Secondo voi Che cos'è È un prossimo video 9.000 Comunque qualcuno ha acquistato Allora 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 Acquistiamo il terreno Già comprato prima Ora possiamo andare Balabam Non compro ne valvole nulla Facciamo 60.000 dollari circa E compro tutto In queste terre Non c'è soltanto petrolio Ma ci sono anche Che cosa Me le fotte a me C'è il gas Ragazzi c'è il gas Chi non ha visto la serie vecchia D'ora in poi C'è il gas Il gas Se è raccolto insieme al petrolio Verrà perso pure il petrolio Intanto ragazzi Un pollice in su In questo momento Non ti dimentichi Per il mio brufolo Mamma mia Almeno Questo video sarà Io e il mio brufolo Allora Aspetta un po' Almeno sono in compagnia di qualcuno Cacchio Sempre da solo In questa serie Mi è caduto un pezzo Il pezzo di prima Un pannello solare Cosa sarà Pannello solare Non mica Pannello solare Ah non è una collaborazione Con nessuno Ragazzi Si è eletto Topolino Logicamente Figuriamoci Magari Avessi una collaborazione Con Topolino Ok Ho svagato di poco Qui Bambete Andiamo a prendere a sinistra Ragazzi Torniamo al discorso di prima Mentre io Cimolo petrolio E qua bisogna stare molto attenti Al gas Ragazzi Veramente Mi ha colpito molto L'interno Qua Qua all'interno C'è un muscolo Che si chiama Quella Q inizia Si chiama Quella cosa Che pom Che pom Pum 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 Quella Q Quella Q di qua Il cuore Il cuore con la C Eh Mi avete fatto male Perché Vicchia Mi impegno Mi dicono che le lacrime Nei video ultimamente Portano visite Allora Aspettate un po' Oh Oh Mi sta scendendo il petrolio Mucciaccio Ok ragazzi Dovevo vedere un po' di bagnato le lacrime Ora Un attimo serio Ragazzi Io mi sono impegnato A portarmi Il video Scorso Che è uscita la scheda All'inizio del video Io mi impegno A portarmi Tanti giochi Però Non dovete mettere Disleak Solo perché Il gioco Non vi piace O perché L'ho portato Al posto Di mini craft Cercate Di capire L'impegno Ok Passato il momento Trista Ora passiamo al momento Giocoso Ultimamente Mamma roba Gas non ce n'è E andrei a prelevare Il tutto ciò Allora Io comprerei Il silo No andiamo a vendere di qua Finché siamo a 100 Magari si Un paio di silo Li comprerei Pampete Pampete Potenziate al massimo Pampete Pampete Ora volevo fare soldi Dalla trivella Per metterla qua Al signorino Bauscino Qui in fondo E trovato il petrolio Anche qua Compriamo altri Cavallucci marini Qui portiamoli magari a 10 Ok E per il momento Riempiamo le cisterne Poi vedremo dopo Questa qua Non voglio potenziarla Ma voglio mettere Una scannerizzata Andiamo un po' Che scannerizziamo Gas Pampete Oh raga Non stiamo trovando gas La cosa è buona Tanto non possiamo Nemmeno raccoglierlo Tutti a vendere di qua Forza Allora Una bella scannerizzata Magari facciamo anche Un paio di scannerizzate Una qua Bampete Oh Petrolio E diamantole Un gabbiano qua Che raccoglie Pomeno gabbiano Hai perduto La compagno Che raccoglie Il nostro Devantuzzolo Oh Due macchie Fantastic Bebis Aspettate Vedo qualcosina Qua potrebbe essere Addirittura Del gas Mamma mia Ragazzi Mamma mia Mamma mia Sono un mago Sono un mago Meno male Stavo facendo la pirlata Perché se passassi qua in mezzo Perderei tutto il gas Tutto il petrolio Ha uno qua E uno qua Potenziamo questo Oh 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 Un attimo No aspettate No 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 Ho perso il petrolio No quanto sono imbranato E pirla Non mi ero accorto Raga Non mi ero accorto Che i silori fossero pieri No Ho fatto una Cagato Speriamo Speriamo Non abbia perso tanto Raga Allora lui ha trovato qualcosa Qua sotto Porca ciavatta Cosa ci sarà mai Forse qui Bambette Si C'era il petrolio Aveva ragione Man Vediamo un po' Quanto è grande Sta macchia Finita Finish Ragazzi 28.000 dollari Siamo a 61.000 Siamo a 61.000 Facciamo una partita GG ragazzi Compro Sinistro 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 Pari Dispari Dispari Io pari Bim Allora questo è mio Questo è tuo Io pari Tu dispari Bim Bum Bam 5 più 1 6 Pari Mio Per cui comincio io E che cazzo ero io Destro o sinistra Ricacciamo Io destra Voi sinistra Pari Dispari Ok Io Voi Destra Sinistra Bim Bum Bam Sempre sei uscito Che sopirla Vabbè comunque Destra Per cui compriamo Right Bambete E compriamo Le valvole Bambete Problema 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 Piccolo prestito Banca Almeno 3000 dollari Almeno 3000 dollari Ma a noi non è che 3000 dollari Che ce ne facciamo Prestito Abbiamo diamanti Aspettate Che io ho 3 diamanti Ah però valgono 1400 Costano pochino Meglio un prestito Di 3000 dollari 26% di interessi Ma si Ma gli diamo occhi Sbarrati proprio Allora A sta per le azioni Non possiamo fare niente Per tanto il 1% Che ce ne fotte Se la giudica Marmoselle Blanche Per 3168 dollari A sta dei terreni Eeeh 57 Io la faccio di fianco Allora E infatti tutti l'intorno E Lo voglio io Ah aspetta Non mi bastano i soldi Mi sono abbastato No devo chiedere Altri 2000 di prestito Ok Ok Si può partire Poi ragazzi Andiamo al municipio Perché ci sono delle cose Interessanti E infatti Petro e il gas Se le va Ok 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 Ci sono delle cose Interessanti Perché Abbiamo sbloccato Altri aiuti Di questo bioma Che dopo andiamo a vedere Ok Ora abbiamo le valvole Che possiamo aprire e chiudere Al prezzo di 150 E poi abbiamo anche la valvola Per andare a vendere Il petrol Il gas Vedendo il gas Sale il prezzo Alle stelle Del petrolio Logicamente Oh Già trovato il petrolio lì Proviamo questo qua Il centrino Qua rischiamo molto Perché se becchiamo Una fonte di gas Rischiamo molto Ok petrolio Ottimo Mi è stato un cappello nell'occhio Ragazzi Il trucco di questo Di adesso È raccogliere Più soldi possibili Dopo vi dico anche perché Facciamo il silo E con calma Ora diamo un bel po' Di scannerizzate Ragazzi Qua ci vogliono Spendiamo un sacco di soldi Ma dovremmo rifarceli Cercare di trovare Molto petrolio E molto gas Ok petrolio Ok gas Mamma mia Quanto petrolio Ragazzi Quanto petrolio Poco gas Sono sincero Poco gas Questo cos'è Petrolio Ok Petrolio Ok Questo qua Non so cosa sia Petrolio Ok Qua c'è ancora Gas Ragazzi Ragazzi ho avuto un po' Di fuoriuscite Infatti È successo un patatrack Abbiamo un sacco di petrolio Un sacco di petrolio Ora Completiamo qua Subito Questa trivella La voglio vuota Allora Guardate qua ragazzi Chiudiamo questa trivella Ok E andiamo ora A prenderci Allora Attiviamo questo Purtroppo Quella è lontana Guardate Facciamo così Allora Così E poi Ho fatto una cagata Così Poco gas Pochissimo gas Ragazzi Porca civetta E poi colleghiamo Questo qua Niente Raga Un patatrack Un fail totale Mi è cresciato il gioco Eh sì il gioco Scusate Mi è cresciato la web Mi è cresciato tutto Nel momento in cui Stavo sistemando le cose Mi è scaduto il tempo Porca di quella Ciabatta La da vacca 5500 di prestito ragazzi Ci stiamo iniziando Ad infossare 3% di azioni Non c'ho soldi È bello che c'erano 72 di petrolio ragazzi Questo faceva Davvero brutto Sto terreno Porca civetta Eh la giudichiamo Eccala Eccala I primi danni I primi danni Madonna Madonna Aspetta possiamo chiudere la valvola Possiamo chiudere la valvola Chiudiamo la valvola Vendi Vendi Calcio e struzzo Vendi Ok Chiudiamo quella valvola Perché non ho messo a vendere i cavalli Sono un pillo di qua Un dollaro e ventitré Sono un attimo in tilt oggi ragazzi Sto giocando malissimo Ok potenziamo i cavalli E velocizziamo i cavalli E fin qua ci siamo Ok più o meno abbiamo guardato Dove sono gli ambaradam Più o meno eh Un diamante Qua Ora quello che voglio fare ragazzi È raccogliere tutto il petrolio Ok E portare questo qua A fargli fare tutto il giro del gas Per chiudere la Ragazzi sicuramente durante il video Sentirete dei rumori Di attacco e stacco usb È che mi si continua a staccare Non so per quale motivo Mi fa contatto l'usb del Del Come si chiama Del mouse E per rimettere il mouse eccetera eccetera Io perdo tempo Ho perso un'altra partita 7900 dollari Di sotto Porca di quella civetta Oggi non è giornata Non so per quale motivo ragazzi Io ho la ciabatta Non so farò vedere La ciabatta usb Che mi fa contatti Per cui mi vanno via le cuffie Mi vanno via il mouse Averte sentito Durante il video Spero di no Attacco e stacco Con l'usb Dunque Siamo sotto Di 7900 euro Dovrei riavviare il pc Tranquilli Tranquilli È ancora poco Il L'essere sotto Ci rifaremo nel prossimo video Tranquilli che Torneremo Più positivi Che mai Un bacione Un abbraccio Da Luke Turmoile e tutto Chierovenna ragazzi Non è colpa mia Ma è colpa di sta ciabatta Usb Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti